La visione dell'opera è sconsigliata ai morti del sistema Buongiorno Buongiorno alla storia Il morto è la classica pecora Quindi il dormiente È solo un giocattolo Si metto la mascherina? In mezzo alla battaglia, il vero guerriero non sente neanche il dolore dei tagli che gli fanno E allora, veniamo a noi Di un nuovo inizio, di una nuova umanità Si invita l'aspita di Narza a restare in casa